Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 Radio Radio By Night Roma Ma cos'è che c'è? Informazione, gossip, tendenze, locali, eventi, tutto quello che puoi fare di notte a Roma By Night Roma, tutte le notti, da mezzanotte alle 5 del mattino Niente, dormi, va By Night Roma, By Night Roma Voice of your night, musica for me night By Night Roma, By Night Roma, voice of your night Music is for me night This is the voice of your night Radio Radio By Night Roma Cento, cuatro, e ci, play, FM In diretta degli ascoltatori della Notte Romana, tra poco li chiamiamo 800 039 036 per chiamarci in diretta Adesso ne abbiamo già due in linea, voi continuate a chiamare Intanto raccontateci il vostro venerdì notte dove siete e dove state andando E ovviamente noi siamo in diretta fino alle 3 quindi c'è tempo Il numero verde è gratuito 800 039 036 Sono accanto a Titti Camelin e Gianpaolo Virga Band Quindi stiamo presentando il Leader Esattamente, allora intanto diciamo che presentano il loro nuovo CD ovvero Alibi allo specchio Poi facciamo una sorta di presentazione, vero? Allora, Gianpaolo Virga, giusto? Saluta Ciao a tutti gli ascoltatori di Roma By Night Francesco Ambrosini, ciao a tutti Ciao a tutti, sono Luca Palducci Allora, voi da quant'è che suonate insieme? Io so che devo parlare con lui, che lui è il portavoce, mi metto comoda comoda qua Allora, da quant'è? Ne manca uno vorrevo dire Esatto, manca il batterista ovvero Dario Masani Perché giustamente voglio dire insomma Questo posto era unplugged Quindi non c'era modo di far intervenire il batterista, giusto? Esattamente, comunque lo salutiamo Un grande saluto al mitico Dario Io devo salutare anche Sandra De Curtis La manager di Gianpaolo Virga Band Sì, assolutamente Allora, andiamo avanti Da quant'è che suonate insieme? Con questa formazione praticamente dall'estate del 2009 Per cui da poco esattamente Ci siamo, abbiamo formato piano piano tutti i tasselli E ci siamo dati da fare insomma Adesso siamo arrivati qui Vi ascoltiamo live E vi vogliamo ascoltare live Esattamente, allora io me ne vado Perché loro qua non potranno mai cantare con me in mezzo ai piedi In gergo, unplugged In diretta sul By Night Roma La notte di Radio Radio Luna e quindici Talenti della notte romana Che si stanno preparando davanti a noi Quando siete pronti ce lo potete dire? Intanto sono praticamente tutti microfonati E tutti nella propria postazione Vi voglio dire ascoltatori in diretta Continuate a chiamare per raccontarci il vostro venerdì notte Dovunque voi siate Basta chiamare il numero verde gratuito del By Night Roma Ve lo do 800-039-036 800-039-036 Talenti del By Night Roma Gianpaolo, Virga Band Radio Radio By Night Roma Radio By Night Roma Presenta i nuovi talenti della notte romana La 1 ai 16 minuti Li stiamo per sentire Sono pronti E tutti acustici Quando vogliono 1, 2, 3 Stanno partendo Un saluto a tutti Gli ascoltatori di Radio Radio Di Roma By Night A tutti gli amici presenti questa sera qui Questa è intitolata Diciamo una canzone intitolata I metodi del Blasco Vogliamo sentirvi a tempo però, ok? Oh Oh Non son pop Non son rock Non son jazz Ma potrai guardare Nella minima Non è fano Non è nice Cyberpunk No Ci intenderemo con un solo sguardo Perché i metodi del Blasco Perché i metodi del Blasco Non sbagliano mai Non portano divise Vanno proseguiti Maurose vibrazioni Scusano oltre il muro Non è colpa di Alfredo Credimi Non è post Non è noise Non è show game Forse posso vivere Forse posso vivere i vostri cuori 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 Non è Non è Non è rap Non è rap Stasera devo stare spento Bam Bira 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 E che i metodi del bloc Non è spaziano a me Portano divise Sballano corsa E testa rotolanti Diabolici corsari Ti porterò quel fiore Mon amore Grazie a tutti Roma Night Giampaolo Virga Band Che avete appena ascoltato in diretta Radio Radio By Night Roma 104.5 Grazie a tutti Grazie.